Sale di nuovo la tensione tra Israele e Iran, il premier Netanyahu della conferenza sulla sicurezza di Monaco ha mostrato un frammento di quello che secondo Tel Aviv è il drone iraniano abbattuto dall'aviazione israeliana giorni fa perché è entrato nel territorio di Israele, episodio dal quale è nato il raid sulle postazioni iraniane in Siria e l'abbattimento dell'F-16. Netanyahu pone una domanda ironica al ministro degli esteri iraniano, Yavad Zarif. Signor Zarif lo riconosce, dovrebbe, è vostro. Netanyahu ha avvertito l'Iran di non superare più la sottiglia linea rossa, altrimenti Israele agirà anche contro la stessa Teheran. Assad ha spiegato il premier israeliano, deve comprendere che invitando l'Iran a casa sua di fatto ci sta sfidando un messaggio anche per i gruppi armati palestinesi a Gaza e per gli Hezbollah sostenuti da Teheran in Libano. In mediata la reazione del ministro degli esteri iraniano Zarif, Netanyahu ha detto che è un fumettista da circo. Alcuni ha aggiunto ricorno ai cartoni animati per giustificare errori strategici o forse per evitare la crisi interna, alludendo ai problemi legali di Netanyahu in patria. Ad attaccare Teheran anche il ministro degli esteri saudita Al-Jubeir, che ha definito l'Iran un esportatore di missili balistici. Netanyahu ha anche puntato il dito sull'accordo sul nucleare del 2015 tra Iran e Stati Uniti, definito pericoloso e inefficace, una posizione supportata poco dopo in un tweet da Donald Trump.